I prossimi 5 anni saranno decisivi per la città di Salerno, per la politica, per le tenute delle istituzioni, per il progetto Salerno che dovrà sostanziarsi con atti concreti. Nella nostra città dovremo andare avanti con decisione. Così nel corso del suo intervento il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il giorno dopo la sua proclamazione a Palazzo di Città, che questa mattina ha incontrato alla stazione marittima di Salerno tutti i candidati che lo hanno sostenuto in questa competizione elettorale. C'erano i candidati consiglieri comunali eletti, tante persone che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale, il parlamentare salernitano Piero De Luca, ma sebbene ci fosse tanta gente non è passata inosservata qualche assenza di assessori uscenti. Siamo portatori di un progetto politico ampio, ha detto il sindaco Vincenzo Napoli, che ovviamente sollecitato a suo arrivo alla stazione marittima di Salerno da domande inerenti la composizione della Giunta, ha preferito non rispondere ai giornalisti, affidando a pochissime parole la sua replica. Sarà una scelta autonoma, sto riflettendo. Una coalizione intelligente che ha condotto una battaglia libera, piena di contenuti e di proposte e la gente ha registrato questo dato. Oggi un'occasione di incontro con i consiglieri comunali, un'occasione un po' con calma per rivedersi dopo una lunga campagna elettorale. E' stata una campagna elettorale bella, ricca di amicizie che si sono consolidate, di spinte propulsive. Mi corre l'obbligo veramente di ringraziare i tanti militanti, candidati, amici che hanno speso il loro tempo in questa tornata e credo che con questo successo che abbiamo ottenuto si apre per Salerno un ulteriore campo di azione ancora più avanti, come abbiamo detto durante tutta la campagna elettorale. Dobbiamo fare tesoro di questa presenza così numerosa, di amici, di sostenitori che vorremmo continuassero a svolgere una funzione civile nella nostra città. La Giunta è una mia prerogativa istituzionale che intendo esercitare in piena libertà e autonomia. Ci sono sicuramente dei parametri da mantenere, lei ha detto andare avanti, a prescindere dai nomi e a prescindere dal quantitativo di voti, che struttura va? E' una mia scelta autonoma, ci sto riflettendo. Grazie a tutti.